Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro Alex Rossi Siamo qui tornati in questo nuovo video Dopo la partita che si è conclusa da pochi minuti Tra Roma e Sassuolo ha vinta per 4-2 per la Roma Ragazzi mamma mia la prima vittoria di Fonseca Arriva oggi alla terza giornata contro il Sassuolo La Roma parte subito in vantaggio al 12esimo Con gol di Cristante con suo assist di Pellegrini Pellegrini raddoppia con Dzeko al minuto 19 Sempre assist questa volta di Kolarov Poi al 22esimo segna Nikiterian Che mamma mia che giocatore spettacolare che è ragazzi Io so esco pazzo per Nikiterian Ditevi tutto quello che volete ma per Nikiterian io esco pazzo Su assist di Pellegrini Poi segna Giustino Kluivert segna Kluivert Alleluia Alleluia Qualcuno che c'è sta là sopra comunque segna Kluivert Su assist di Pellegrini che fa 3 assist Lorenzo Pellegrini E nel secondo tempo ragazzi Preso da Scialo Da una Roma che magari si è presa un po' più leggero Da Fonseca che chiedeva comunque ancora di attaccare E comunque di chiudere la partita definitivamente 5-0 La Roma si è presa Scialo E segna Berardi su un gran gol su punizione Bisogna dirlo Scialo a Berardi che ha fatto un gran gol su punizione E poi la doppia diciamo Fa doppietta Berardi sempre al 72esimo ragazzi Uno su assist di Duncan E l'altro un bel gol di punizione ragazzi Devo essere sincero ragazzi Oggi mi è piaciuto come ha giocato la Roma Mi è piaciuto Kluivert Mi è piaciuto soprattutto Veretou Veretou ha giocato molto molto bene ragazzi Ha giocato molto molto bene Mi è piaciuto Pellegrini Pellegrini un mostro ragazzi Mi è piaciuto Dzeko pure Dzeko meno male che è rimasto a Roma Perché veramente io lo adoro Diciamo che mi sono piaciuto un po' tutti ragazzi Nel secondo tempo è entrato Pastore Che ha avuto le sue occasioni per poter Anche se poco è entrato Ha avuto le sue occasioni Ma ragazzi veramente Se Pastore non segna manco Se la metti davanti alla porta Io bu Sto giocatore non lo capisco Non lo capisco Non lo capirò mai Poi è entrato Spinazzola E Zagnolo Che comunque ha avuto anche le sue occasioni Però questi giocatori si sono visti ben poco Diciamo rispetto a Diciamo Diciamo a quelli che hanno giocato titolari Diciamo che nel Sassuolo Comunque mi ero spaventato All'inizio partita di De Frelle Perché il gol dell'ex Sapete ragazzi Magari poteva segnare Invece così Le pesano il culo Tranquillo Bello tranquillo Comunque ripeto Una Roma che mi è piaciuta Speriamo che la Roma gira Così Comunque che la Roma Giochi sempre così ragazzi Questa squadra Manca Smalling E secondo me Under Perché secondo me Sarebbe al completo Perché comunque Oggi Antilacchia Potete venirmi a dire Eh ma col Sassuolo Eh di qua e di là Ragazzi Io non ho mai detto nulla Quando avete Magari che ne so Se me lo dice un interista Non sono mai andato a dire Eh ma avete vinto 4-0 Con il Lecce Che cazzo vi è saltata a fare O che ne so A un milanista E avete vinto col Brescia Che cazzo vi è saltata a fa Oppure a un Juventino Che ha vinto contro Che aveva una per il Parma Eh che cazzo vi è saltata a fa Perché ovviamente ragazzi Esulto per la mia Roma Esulto perché noi Dobbiamo arrivare al quarto posto L'obiettivo nostro è il quarto posto Noi con le piccole Dobbiamo vincere ragazzi Dobbiamo vincere Speriamo anche con le big Ma con le piccole Il problema nostro Dello scorso anno È che con le big Facciamo cagare Dievo, Spal Eh C'era pure un'altra Che non mi ricordo Abbiamo fatto cagare Sperando di vincere anche con le big Vorrei vedere la Roma In un big match Abbiamo giocato con la Lazio E ci ha surclassato Ma comunque Molti di questi giocatori Non hanno giocato E non erano pronti Eh Speriamo di recuperare Più presto Smalling E di recuperare più presto Under Che potrebbero essere Molto fondamentali Molto fondamentali Per questa Per questa squadra La Lazio Oggi ragazzi Ha perso Quindi andiamo a più uno Sulla Lazio Ciao cari Che già sfottevate al derby Un bacetto ai laziali Un bacetto ai laziali Che già sfottevano al derby Dice Noi noi siamo più forti Gli 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 E poi alla fine Ma siete presi Nerculo Oggi Quindi con Kurtici Che ha fatto Ma te l'ha lasciato questo Ragazzi Io penso alla mia Roma Penso comunque alla mia Roma Che Diciamo che un po' Lascia la mare in bocca I due gol Del Sassuolo Ma quello Su punizione di Berardi Chapeau ragazzi Chapeau Non c'è da dire nulla Ragazzi Non gli esepo di nulla Di tutto quello che volete Ma non gli esepo di nulla Io che dire ragazzi Io vi ringrazio Per aver visto Questo video Mi dà passare il link In descrizione Per acquistare maglietta A un prezzo bassissimo Mi raccomando Avete il 10% di risconto Con il codice Valixerossa Andate Acquistate ragazzi Affrettatevi Acquistate E niente Ci si becca Alla prossima Ragazzi Ciao Belli di chicchi Un bacione E iscrivetevi Al canale Lasciate un bel pollicione In su